tutti dal bar di red comet e oggi cerchiamo di fare un focus sulla zona a sud di pokrovsk del settore di kurakove che sta diventando il nuovo tormentone per quello che sta accadendo sulla linea del fronte ci focalizzeremo solo su questa zona del fronte quindi poi non mi andate a chiedere ah ma perché non fai vedere cosa succede a new york ma perché non fai vedere cosa succede a cala cibetta lo dico subito ci stiamo in questo piccolo video cercherò di spiegarvi qual è la situazione e qual è uno dei punti salienti della gravità della situazione per gli ucraini nel settore sud ed anzitutto cominciamo col marcare le città principali i punti principali di questa linea allora un attimo regoliamo troppo allora qui abbiamo velica novosilca qui abbiamo la posizione di buledar travolta circa dieci giorni fa se non due settimane fa qui abbiamo kurakove un attimo che la evidenziamo qui abbiamo kurakove ok nelle ultime settimane i russi hanno guadagnato molto terreno le ragioni sono molteplici una è stata la perdita del bastion di buledar da cui grazie ai palazzi alti 4 5 6 piani gli ucraini riuscivano a tenere d'occhio una grandissima porzione di territorio e andare a colpire le unità russe attaccanti con l'artiglieria questo perché in tutto questo settore ora cerchiamo di evidenziarlo in qualche modo va bene comunque in tutto il settore di cui stiamo parlando il terreno fondamentalmente pianeggiante e privo di ostacoli naturali ecco perché una volta superato il bastione di buledar i russi comunque stanno riuscendo ad avere il sovravento abbiamo tutta una serie di unità schierate e però possiamo ben dire che se questo andazzo va avanti con i russi che in questo momento stanno tentando di chiudere in direzione di kurakove cosa che ragionevolmente riusciranno a fare intorno alla metà di novembre poi bisogna vedere quanto durerà kurakove però se la circondano completamente ragazzi quanto può durare si avranno x se avranno x rifornimenti ma secondo me gli ucraini non hanno l'intenzione vera di andare a difendere ad oltranza kurakove almeno questa è la mia sensazione perché la stanno chiudendo comunque sia da nord ecco perché hanno preso se lì dove che si trova qui ragazzi eccola qua in questo punto qui abbiamo se lì dove quindi fondamentalmente il movimento è questo e tutta una serie di movimenti atti a travolgere kurakove qui fra le unità ucraine abbiamo la 46esima air mobile proprio a kurakove la 33esima meccanizzata la 79esima brigata vdv ucraina 79esima che comunque ha subito le sue brave perdite in almeno tre mesi di combattimenti quindi attenzione perché poi quello che viene difficile capire innanzitutto se l'entità delle forze che compongono le singole unità ucraine difficilmente tutte queste unità ucraine che vediamo sono quelle blu sono al 100 per cento degli effettivi difficilmente ma nemmeno al 90 per cento probabilmente nemmeno all'ottanta per cento probabilmente sono più indietro negli effettivi probabilmente anche le unità russe non solo non sono messe bene però bisogna capire riescono a fare la rotazione riescono a rimpinguare i ranghi questo non si sa fino a che punto quindi questo discorso che andiamo a fare lascia poi il tempo che trova perché ci sono delle informazioni che non sono di appannaggio pubblico che sono gli effettivi di ogni unità il supporto logistico di cui gode quell'unità la quantità di munizioni per l'artiglieria che ha a disposizione quella unità la quantità di mezzi ancora efficienti e così via quindi quello che noi facciamo è un guesswork cioè andiamo a fare un lavoro da indomini facendo prendendo come riferimento quello che è stato l'andazzo negli ultimi 15 10 giorni ok l'andazzo è che comunque i russi in questo settore hanno avuto il soprevento stanno conquistando un sacco di terreno resta comunque il fatto che come ho detto mille volte agli ucraini il terreno non interessa in quanto possesso del terreno di per sé interessa fino a quando è funzionale a cagionare perdite elevate all'esercito russo nel momento in cui le unità ucraine per cagionare che ne so 20 perdite ne vanno a perdere 15 il gioco non vale più la candela ecco perché muledare era importantissima perché da muledare riuscivano a cagionare perdite enormi all'esercito russo contenendo invece le perdite ucraine quindi sicuramente nei prossimi giorni noi vedremo un'avanzata ovviamente per gradi sicuramente vedremo questo tipo di chiusura con le unità ucraine che saranno costrette a ritirarsi se non vogliono rimanere imbottigliate nel frattempo i russi avanzano da sud in modo da avere anche questo lavoro fino a quando praticamente cura come verrà completamente chiusa in una sacca ma a quel punto cosa faranno i russi a quel punto probabilmente probabilmente i russi a quel punto cominceranno a spingere anche da nord in modo da gradualmente portare indietro le unità ucraine e l'unica cosa sensata da fare bisogna vedere ovviamente se il terreno lo permette ma ripeto il terreno tutto sommato è abbastanza scoperto e in questo momento il tempo comunque è abbastanza clemente quindi consente anche le operazioni dei veicoli blindati questo per dire che in questo momento il il fango non è un la rasputizza non è un problema né per chi sta attaccando né per chi sta difendendo a questo punto nel giro di un mese e mezzo circa è una stima giorno più giorno meno si andrà a delineare una linea di resistenza ucraina che partirà da velica a novo silca seguirà il fiume mica mica qualcosa del genere c'è un fiumiciattolo e più o meno avrà quest'andazzo seguendo il fiume per poi andare salire verso pokrosk da questo punto di vista è l'unico ostacolo naturale che gli ucraini possono provare a sfruttare per frenare l'avanzata russa sempre fermo restando che la logistica russa non collassi prima perché sappiamo benissimo che i russi hanno grossi problemi di logistica e non possono sfruttare appieno le linee ferroviarie almeno in questo settore ma ripeto questo è un stiamo andando diciamo a di indovinare ragazzi quindi questa avremo probabilmente le unità ucraine che si andranno a testare lungo questa linea di difesa linea di difesa che non è che sia poi granché solida perché perché nella zona di venica novo silca effettivamente lungo il fiume abbiamo delle alture ma ragazzi alture di poco conto in alcuni settori il fiume è mediamente largo in altri fondamentalmente se si va a fare un giro con maps si vede che fondamentalmente è un rigagnolo bastano due passerelle e sei dall'altra parte ovviamente io vi aspetto che gli ucraini proprio nelle zone dove guadare il fiume più facile saranno le zone ovviamente più difese e viceversa quelle dove il terreno è più impervio saranno quelle leggermente meno difese perché non avrebbe senso lì ti aiuta la natura a tenere a vada il nemico quello che però mi fa veramente preoccupare è la quantità di artiglieria che hanno i russi perché se noi andiamo a guardare bene nella mappa tutti questi rettangolini tutti questi rettangolini con la x e il pallino al centro sono brigate di artiglieria vediamo cosa hanno a disposizione questo qui per esempio il rettangolino con le tre stanghette è un reggimento di artiglieria quindi hanno una due tre quattro cinque sei questo è un reggimento di artiglieria semovente sette cioè già solo per questo settore hanno sette brigate di artiglieria senza contare l'artiglieria insita nelle varie brigate meccanizzate di fanteria meccanizzata di fante le brigate corazzate eccetera eccetera che alla disposizione cosa hanno a disposizione gli ucraini hanno una sola brigata di artiglieria vedete poi quando si traduce abbiamo poca artiglia anzi ne hanno una qua una molto più indietro e una qua sopra quindi sono tre brigate di artiglieria che devono praticamente contrapporsi a sei brigate di artiglieria diversi reggimenti di artiglieria russi come vedete c'è una penuria di artiglieria da parte ucraina sappiamo anche che gli ucraini hanno una penuria di proiettili quindi da questo punto di vista le unità ucraine godono di un supporto inferiore ora i più acuti di voi avranno visto che qua dietro c'è un'altra brigata in attesa una quarta brigata va bene però diciamo quelle attualmente direttamente impegnate sono tre brigate ed è quello uno dei motivi per cui gli ucraini hanno difficoltà a contenere questi attacchi hanno difficoltà hanno poca artiglieria nel settore i russi invece hanno una quantità di artiglieria non dico schiacciante ma quasi i russi hanno sempre posto grande enfasi nell'artiglieria quindi bisogna andare a capire più o meno come andrà ovvio che tutta questa cosa si svilupperà nell'arco di un mese e mezzo due mesi abbiamo ora il grande come si dice il grande dubbio chi vincerà le elezioni americane cosa succederà se dovesse vincere la herris arriveranno di botto quantitativi di proiettili a 255 aimars ne arriveranno già è stato fatto un primo pacchetto per mandare qualcosa anche i tedeschi stanno mandando qualcosa stanno mandando altri 12 se momenti panzer ubiz 2000 stanno mandando 61 mila colpi da 155 mm ragazzi 61 mila colpi può sembrare un grande numerone ma sono spiccioli ve lo dico subito sono spiccioli questa è la situazione che si sta cominciando a prospettare nella zona a nord di bule dar e a sud di cura come bule dar l'abbiamo visto è già caduta già stata conquistata nel frattempo i russi hanno preso già qualche giorno fa gli asni apoliani apoliana e insomma la situazione sicuramente è critica e critica della misura in cui comunque da un punto di vista della propaganda i russi potranno vantare abbiamo catturato x terrena abbiamo catturato questo abbiamo catturato quello la maggior parte di questi centri a parte a dricka che comunque è abbastanza sostanziosa sono piccoli centri la zona comunque è una zona relativamente depressa da un punto di vista economico gli ucraini perdono ben poco però da un punto di vista del morale comunque sicuramente un colpo dal punto di vista comunque del terreno è sicuramente un colpo non bisogna fasciarsi la testa più di tanto però ovviamente bisogna dare adito ai russi merito ai russi di riuscire comunque a cavare un ragno dal buco a cavare qualcosa ad ottenere qualcosa che poi grazie alla propaganda sbandiereranno come chissà quale grande successo militare il successo ovviamente c'è stato ovviamente gli ucraini hanno fatto una cretinata a bule dar ma ormai è fatta è inutile piangere sul latte versato ragazzi questi sono i miei due centesimi spero che il video vi abbia interessato se vi piace come tratto questo tipo di argomenti io vi invito sempre a iscrivervi al canale l'iscrizione è totalmente gratuita non pagate un centesimo ringrazio chi sostiene il canale con i super grazie con queste donazioni ovviamente donate quello che volete se volete donare se non volete donare va bene lo ovviamente se donate è meglio ma se non donate va bene l'importante vi iscrivete seguite e cercate cercate grazie al mio canale al canale anche di mirko parabellum al canale di enrico gestri dell'avvocato catania cerchiamo di farci sentire cerchiamo di sovrastare la propaganda la propaganda inutile mendace dei russi ovviamente come vedete seguite i canali del giornalista katia restrenko seguite tommy del canale nd insomma cerca oppure seguite chi volete ma seguiteli entrambi in modo da avere una visione a 360 gradi e non solo l'informazione di una parte perché comunque anche gli ucraini ogni tanto cadono nella trappola della propaganda detto questo il bar di red comet vi saluta vi ringrazia e vi augura una buona prosecuzione di giornata